oggi in calibro 28 col turco cofs canna e 76 più due centimetri di tromboncino carlos una stella due stelle e cartucce campagna pronto aspettiamo un po' Grazie a tutti. Oh, un piccione. È cascato. Signori, l'ho trovato. Eccolo. Mamma mia che tiro. Mamma mia che tiro, signori. Un tiro oltre 40 metri. Da lì sotto, signori. Madonna, quanto strada ho dovuto fare. Cartuccino in calibro 28. Sipe. Madonna. Primo colombaccio sparato con questo Cops calibro 28. Primo colombaccio abbattuto. Bellissimo. Bellissimo tiro. Signori, non sono riuscito ad accendere la telecamera perché è arrivato come un missile. Però, signori, gli ho dato una bella fucilata con la Sipe ed è cascato morto di 150 anni. Eccolo qua. Bello. Morto di 150 anni. Cartuccia Sipe e 28 Cops come dice un caro mio amico Mamma li turchi. Cosa. 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 ecco pichol Grazie a tutti. 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 Bellissimo. Grazie a tutti. M92s. M92s. Calibro 28. Grazie a tutti. Grazie a tutti. S4. Ecco. Grazie a tutti. non sono riuscito a trovarlo sicuramente sarà caduto all'interno di qualche buco è più di mezz'ora che lo cerco un peccato un peccato un peccato S4 guardate ragazzi guardate dove è caduto guardate che bello pure quello 6-4 e intanto qua non si può sparare e camminare bellissimo 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 tiro bellissimo sipe bello bello croccante come mi piace a me è frullato questo non sono arrivato a prenderlo con la copro però lo ha annientato ora andiamo a prenderlo vediamo qua come è la situazione la vedo ecco il signore è scoppiato nell'aria con la S4 è scoppiato infatti forse mi sa che l'ho che l'ho distrutto nel vero senso della parola vediamo se posso recuperare qualcosa è un peccato buttarlo signori signori ne ho battuto un altro altissimo alla S4 non l'ho potuto riprendere è stato un razzo ora andiamo e lo recuperiamo signori un tiro incredibile mamma mia forse adesso l'ho trovato bellissimo tiro signori un bel tiro d'avverso signori questo hai reso conto due colombacci non sono riuscito a trovarli e qua ce ne abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e due sono tredici in calibro ventotto con le cartucce caricate da me in calibro ventotto le mie cartucce che non mi deludono mai mai ok signori quanto le rimetto in borsa e torno a casa però oggi basta e vi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti